La raccolta fondi per Iaia va avanti, la piccola affetta da una malattia rarissima, un tumore che dà poche possibilità di sopravvivenza. Ad oggi, grazie al progetto Il Sogno di Iaia, sono stati raccolti oltre 400.000 euro, ma le speranze della piccola di soli 6 anni sono legate agli Stati Uniti, dove per le cure servono circa 800.000 euro. Tra le personalità anche politiche che si stanno impegnando nella sensibilizzazione al problema, c'è anche il consigliere regionale terramano Giorgio D'Ignazio, che da anni è impegnato nel sociale. Il popolo abruzzese è un popolo veramente solidale, credo, e se non mi sbaglio, siamo sui 460.000 euro, ma potrei anche sbagliarvi, perché la cifra varia di minuto in minuto. Mi sono reso, insieme a tanti altri, promotore di una serie di iniziative, da coinvolgere tutti i colleghi della regione, a coinvolgere i sindaci del territorio, di tutti i comuni, la più piccola, la più grande, ai capologhi di provincia, alle province, di divulgare il conto corrente Liban della banca che raccoglie soldi per questa bambina, perché lei entro il 15 gennaio deve partire per il Cancer Center di New York e dobbiamo raccogliere 800.000 euro. Ce la faremo, quindi li invito a essere tutti solidali, anche versando 5 euro, 1 euro, qualsiasi cosa, considerando che la bussa ha 1.320.000 abitanti, anche una cifra piccola è importante. La banca è la banca di credito cooperativo di Sulmona, poi credo che passerà il serpentone con Liban per fare questo versamento. Ve lo chiedo, ve lo chiedo a tutti quanti, devo dire grazie al Pescara Calcio, al Teramo Calcio, a tutti coloro comunque che stanno facendo tanto per questa bambina, e sono veramente tanti, al sindaco di Giuliano, insomma tante persone stanno facendo delle iniziative di raccolta fondi. Continuiamo, è una sfida che noi abruzzesi dobbiamo vincere.